La stessa deve essere formata da materia che puntuola nelle strutture fisiche, la più piccola delle immagini è l'atomo. Gli scienziati che hanno ricercato da cosa sono creati gli atomi hanno capito che sono plasmati da particelle più piccole di immagini somatomiche, energia vibrazionale e spazio. Lo spazio infatti non è vuoto. Lo spazio è composto da legami interattivi di energia che collegano l'universo e permettono uno scambio di informazioni energetiche. Gli scienziati hanno scoperto che l'energia esiste anche nei fotoni, che una volta contengono frequenze ricche di informazioni e vibrazioni all'interno di un campo risonante. Ciò significa che anche la luce è prodotta da particelle fisiche ed energia vibrazionale racchiuse all'interno di un campo contenuto. Il flusso di informazioni dentro questo campo è la comunicazione, che influisce su tutte le energie vibrazionali viventi e di conseguenza agisce sull'intera materia attraverso le risonanze, generando così un effetto sulle particelle fisiche che costituiscono le cellule e a loro volta i sistemi viventi. Infatti, l'energia condiziona la materia con un'efficienza cento volte maggiore rispetto a quanto la materia non influenzi un'altra materia. Ciò significa che possiamo ottimizzare lo stato fisico del corpo umano dominando l'energia vibrazionale delle cellule, l'energia naturale del cibo e dell'acqua. L'espressione genetica incide sulla fisiologia quotidiana. Tale processo dipende dall'energia vibrazionale attraverso la decodifica del nutrimento, dell'acqua, dei segnali ambientali, sia vinigni sia maligni. Questi orientamenti ambientali permettono alle cellule di comunicare tra loro e con tutto il sistema vivente da cui provengono. I scienziati collegano questo fenomeno all'epigenetica. Le fondamenta principali dell'epigenetica ci hanno fornito una visione insieme che ha consentito a San Robin di sviluppare una tecnologia per ottimizzare i sistemi viventi. Questo nuovo approccio al benessere è completamente sano, naturale ed efficiente e si basa sull'epigenetica, così come sulla meccanica quantistica. Scopri il tuo personale trattamento epigenetico oggi, richiede il record di immunità e benessere e scegli il tuo personale risoponto sportivo dell'It. Bene, benvenuti a questo corso teorico-pratico di informazione, grazie a tutti di essere qua. È un privilegio per me poter condividere con voi queste due giornate, questo weekend, e poi sono due giorni completi, perché è il raggiungimento di un sogno che è partito ventun'anni fa e poi si è rinnovato tre anni fa quando ho scoperto questo meraviglioso dispositivo che è S-Drive. Quello che ci ha permesso di unirci e ritrovarci qua è questa meravigliosa, a quello che stiamo dicendo, scuola di alta formazione, a cui molti di voi hanno partecipato e che mi permetto di ringraziare di cuore proprio anche per l'entusiasmo che ho ricevuto e anche la passione e i feedback che ho ricevuto in questi mesi. Sappiamo tutto quello che stiamo passando da febbraio-marzo a oggi, però ritrovarci qua significa comunque che non mollare mai e ricominciare sempre, no? Comunque, fare del nostro meglio per riuscire a dare tutto quello che possiamo per aiutare gli altri e l'occasione oggi è anche quella non solo di parlare di epigenetica, di cui magari faremo un piccolo riassunto in Mignami e mi permetto solo di farlo dal punto di vista tecnico perché come sapete non sono un medico, lo faranno poi domani i medici che si occupano della materia da sempre. L'occasione di oggi è anche poter condividere come insieme possiamo comunicare meglio un concetto così importante che per certi versi può sembrare complicato, no? Perché quando ancora oggi mi capita di parlare di epigenetica, non so, mi capiterà anche a voi, magari non dico con un collega, ma anche con un collega, si fa fatica e pensate a parlare con persone comune, normali, che già facevano fatica e fanno fatica ancora oggi a sentire parlare di stress ossidativo, no? I radicali liberi che non sono certo politici. Quindi questa grande cosa che abbiamo fatto insieme ci ha portato qua e ho detto cosa come possiamo iniziare? Dobbiamo parlare sempre di medicina, di prevenzione, di salute? Sì, faremo tanta pratica, domani sarà tutta pratica al 75% perché è importante anche capire come poter utilizzare al meglio il device, ma anche la clinica. Poi al di là di S-Drive non meno ci saranno informazioni che potranno essere utili veramente a 360 gradi. Però quello che secondo me può essere importante è unire le forze, anche i vostri feedback che saranno importanti per riuscire a ottimizzare la nostra comunicazione. Sappiamo quanto sia importante la comunicazione medico-paziente, no? A 360 gradi e vorrei così condividere con voi alcune idee. Partiamo però dal presupposto. Iniziamo a capire quanto, non so se qualcuno di voi ha partecipato a questo corso, la musica e cura, e vi ricordo che il 13 si sarà il corso, una giornata, soprattutto perché ha fatto scuola di alta formazione, veramente sarà interessante perché questo, no, io lascio attestare a me, ma loro due sono veramente dei fuori classe nella comunicazione, veramente lei è stata per una vita compagna del grande Ciro Imparato, erano dei grandi, come sapete, mi vengono i brividi, sono a pensare alla sua voce, alla sua capacità di comunicare, e lei era la sua compagna e quindi ha imparato tutto da lui, e lui era il suo allievo proprio da sempre. E Fabio è la prima ospite oggi pomeriggio alle 6 e ci farà un pezzettino sulla comunicazione. Allora, introduciamo l'epigenetica, ma non perché, l'abbiamo già viste tante volte queste cose, perché dobbiamo entrare in questo mondo, sarò molto veloce, sapete che l'epigenetica sta sopra la genetica, però vedete ancora sopra c'è l'informazione e prevenzione, io qui ci metterei un accento, informazione è prevenzione, perché se riusciamo a essere capillari nella nostra informazione e dare le informazioni corrette, dico sempre non è importante quello che dici, certo, è importantissimo, sì, ma come lo dici è molto più importante. Ora, riuscire a fare proprio questa opera di divulgazione è fondamentale, pensate quanto queste cose siano fondamentali, le trattate tutti i giorni, dico sempre, una volta però tutta la genetica, e poi abbiamo scoperto che è solo il 2%, il software della vita è il 98%, c'è qualcosa che non mi torno, in tutto quello che poi noi in tutti questi anni andando ai vari congressi è tutto così, è tutto così, sempre documenti o alla dieta o all'inquinamento, penso che dobbiamo insieme unire i puntini, unire le forze anche in questa strategia, perché poi alla fine è una strategia l'approccio multifattoriale, se è vero che i problemi sono dovuti a, fattori multifattoriali, anche le soluzioni dovrebbero tenere punto di questa cosa, dipende un approccio multifattoriale alle varie problematiche. Parliamo sempre di prevenzione, parliamo sempre di, non parliamo di malattie, non parliamo di, perché per le malattie probabilmente il test se ce l'abbiamo già, no? Per trovare uno malato, eh? Anzi, a volte ti devono trovare malato, quindi, eh? Se non sei malato e quando vai a fare uno screening ti dico, vabbè, mi dispiace sempre letto l'anno prossimo, vediamo se lo troviamo malato, perché lo screening non è che ti trova il problema, non ti previene il problema, siete d'accordo su questo, no? E qui parliamo invece di prevenzione, sappiamo quanto sia importante la prima fonte di vita che è l'ossigeno e poi ne parleremo, comunque quando andiamo in carenza di ossigeno pensate che è la prima forma di infiammazione, no? E se ne si, si sape un po' di questo, quanto la carenza di ossigeno provoca acidosi, l'acidosi provoca stress ossidativo, lo stress ossidativo provoca infiammazione e questo, passatemi proprio anche, magari lo ribadiamo, ma il premio Nobel alla Medicina 2019, per l'ennesima volta dopo Warburg, dopo Krebs, dopo, ah, hanno dovuto ridare un altro premio Nobel alla Medicina, che è data a chi? Ai tre scienziati, compreso il più grande Semenza, che hanno riscoperto il ruolo fondamentale dei sensori dell'ossigeno a livello cellulare, sapevate, no? Premio Nobel alla Medicina dato a questi grandi scienziati, dove l'ossigeno è qualcosa di indispensabile e sappiamo quanto sia importante l'area che respiriamo, abbiamo uno dei grandi esperti qua, un mio caro amico che poi vorrei presentarvi oggi o magari domani, perché sicuramente rimarrà con noi, sulla respirazione, quanto sia importante, no Sergio? Grazie Giorgio. E Sergio Salati, da 33 anni che si occupa di respirazione, ha fatto respirare ai calciatori, insomma, a manager, l'inter, eh? Quindi l'area che respiriamo è fondamentale, ma quante diete escono? Ogni giorno esce la dieta del momento? Pensate alle carenze nutrizionali, però è subdore spesso, no? Perché tu lo fai, tu fai lo sanno nel sangue, ne parlavo prima con qualcuno, trovi una carenza di vitamina, però sei sicuro, o magari trovi le vitamine, sei sicuro che queste vengono, arrivino a livello intracellulare, sei sicuro che la membrana cellulare è a posto, che l'equilibrio di assi di grassi siano ottimali, che il mitocodro funzioni in maniera giusta, che l'intestino... c'è un mondo, no? Quindi penso che anche capire, ecco qui il passo, no? Verso la l'epigenetica, la biofisica, incominciare a capire quanto queste carenze possano essere subtole e poi creare un problema quando è troppo tardi. l'acqua che viviamo, un movimento, l'acqua che viviamo è fondamentale, lo sappiamo, l'ambiente in cui viviamo si salve chi può, si salve veramente chi può, perché poi vedremo alcune domande fondamentali che io spesso faccio, dopo le faccio vedere perché mi possono essere utili, io non sono certo qua a insegnare niente a nessuno perché ci mancherebbe assi di medici, operatori del settore, da sempre. Allora, condividere delle cose un po' a volte che si spengono nella lampadina non li accendi più, ma dici, ah sì, aspetta, sì, non ci avevo pensato, no? Penso che sia interessante anche questo aspetto. E quando parliamo di, appunto, di inquinamento e di ambiente, pensate che tutto questo oggi non avviene più come in un ambiente di 200-300 anni fa. No, oggi siamo in un altro mondo, completamente differente. E tutto l'area che guardavo oggi, solo ieri, non so se avete fatto caso, dove c'era un messaggio alla telegiornale, passiamo a vedere cosa stiamo facendo al nostro universo, al nostro mondo, al nostro ambiente, tutti questi incendi, migliaia, migliaia, migliaia di incendi contemporanei e distruzione delle foreste. L'Amazzonia si sta bruciando, ma pensate che dicono che ci sono incendi in California da 34 giorni che brucia, una cosa del genere, cosa stiamo facendo nel nostro mondo? Vogliamo parlare di tutto quello che abbiamo scaricato a mare e che stiamo scaricando? Quindi si sa di veramente che può, no? Cambio elettromagnetici, radiazioni, quindi poi lo vedremo in questi giorni cosa possiamo fare. E poi ci stiamo allontanando veramente dalla natura, perché uno dei miei cari amici che abbiamo fatto dei primi corsi insieme a Dino, Fabio Marchesi, no? Che si dice, ma è un po' fissato. Non è che ho fissato, lui ha scritto dei libri sulla luce che cura, no? Pensate però che... E' una cosa che l'hai dimenticato, eh? E' una cosa che l'hai dimenticato, eh? Cioè, pensate, pensate quindi quanto sia importante il fatto che questo possa veramente condizionare pesantemente la nostra salute, il ruolo della luce, del sole, viviamo in ambienti sempre chiusi. Ecco, quando io ho visto questo posto ho detto, beh, questo è il posto probabilmente in risonanza con quello che noi diciamo, no? Poi se vai a Milano, beh, fai sempre i grandi alberghi, questo... Poi sei chiuso, aria condizionata, no? E poi sei stanchissimo, perché sei senza ossigeno, vero? Bene. E poi l'apnei. Vi ricordo che il problema di base a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, si chiama istangiopatia congenita, acidosi e enzimo metabolica, che è legata ai reali rischi congeniti e quindi all'infiammazione silenzio presente dalla nascita, troppo sottovalutata e dimenticata. E parte tutto da qua. E uno dice, ma sarà vero o non sarà vero? Allora faccio sempre un paragone e dico, ma tutti quelli che sono a tardo muoiono tutti? Alcuni muoiono, altri no. E qual è il di un metodo comune? Solo quello che pensano? No. Probabilmente anche un terreno, una costituzione congenita, gli permette di reagire in modo diverso da chi si ammala ai fattori epigenetici che interferiscono. Siete d'accordo su questo? E questo è un altro interessante aspetto da non sottovalutare. Bene, se questo è vero, allora noi mangiamo per produrre idrogeno. Siamo una macchina perfetta, dovremmo produrre energia pulita mangiando sano e respirando sano. Ma, ritorniamo al discorso, cosa mangiamo e cosa respiriamo, purtroppo veramente si sa di chi può. Chi ha anche la fortuna di mangiare veramente sano, filiera corta, del contadino, che non ci mette pesticidi, che non fa la gara con l'altro contadino per fare il pomodoro più grosso e quindi usa di tutto e di più. Vogliamo parlare di drifosfato, vogliamo parlare di... cioè di vino. Quindi oggi, anche lui dice, a me piace il vino, ti vedi un bicchiere di vino? Dice, forse, una volta che vede un vino buono, adesso pensi anche che sia contaminato. Cioè, non si gode più neanche il bicchiere di vino ormai, no? Non si rimbacca. Quindi, questo è fondamentale, perché questo non è più, non succede più. Ha voglia sì che si studia sul ciclo di Krebs, che è la fisiologia, la fisiopatologia. Beh, fino al terzo anno poi l'ho dimenticata, perché io un approccio alla fisiopatologia e fisiopatologia non lo sto vedendo, no? Però, diciamo che estremi ion idrogeno, produzione a livello ATP di energia, a livello mitocondriale di ATP, però c'è un problema, che tutto questo è anche condizionato dall'apporto di ossigeno, ma non solo dalla corretta ossigenazione. E questo, ritorniamo a questo discorso qui, istangiopatia, congenie, cesurose, enzimo, metabolica. Perché? Perché se c'è una disfunzione mitocondriale, l'ossigeno non viene utilizzato in maniera ottimale. E quindi cosa accade? Che quell'ossigeno diventa reattivo, diventa aumento dei radicali liberi. Quindi, il mitocondrio e il DNA mitocondriale è fondamentale, è un ruolo chiave in questa situazione, di qualsiasi problema. Quindi, se io mi chiedo, quando è l'ultima volta aver sentito parlare di impiegamento, dici, vabbè, chi viene da Bergamo, Brescia, Milano, eh, non si è affatto un po' di lato strada, ho visto già quante macchine si hanno, un giro per il mondo, solo quello. Allora, guardate, queste sono chiavi, se potete prendete questi appunti, perché è interessante, perché, vedete, quando si comunica, e dopo faremo un po' di discorso marketing, comunicazione, e questa parte non ci entrerà, ci è entrata come modo di comunicare, ma è metodo. Allora, vedete, queste domande sono fondamentali al, posso chiamarlo paziente-cliente, quello che volete, al nostro, ma a qualsiasi interlocutore. Perché? Perché per far capire il problema, veramente, bisogna usare delle lebre. che se non c'è una leva, è come hai perso solo del tempo. Quindi, questa è una domanda fondamentale. Guardate la seconda domanda che faccio. pensi che sia un grosso problema da risolvere? Perché? Quanti di voi hanno fatto corsi di marketing, di pubblicazione e vendita? 1, 2, 3, 4. Capite che c'è, è sempre così. Ma se io ho uno studio medico, apro uno studio medico, sì, per curare i pazienti, perché è la mia mission, ma poi alla fine devo fare anche il fatturato, no? Perché se no, l'ufficio, l'ambulatorio lo chiude, niente da fare, senza pazienti. È come un'azienda, no? Alla fine, dice, è un'azienda senza clienti, anche se non esiste, no? Farmacia è uguale. Quindi, il poter comunicare in un certo modo è fondamentale, anche proprio quello che dici, e anche per riuscire veramente a far comprendere che c'è un problema serio nella nostra società. C'è un problema serio, il paziente lo deve sapere. Ma purtroppo, poi sente il giornale, no, se no, no, l'inquinamento, abbiamo risolto l'inquinamento. Come? Abbiamo aumentato i livelli ammessi. E per loro pensano che sia la soluzione, no? Invece è raddoppiato il problema. Siete qual è? È molto stretta, è una fissura proprio la comunicazione. E un'altra cosa fate per risolvere questo problema? Cioè, tu, paziente, cosa fai tutti i giorni per risolvere questo problema? Eh, faccio la differenziata. E poi dopo te la riprendono e te la puttano tutta insieme, perché poi... Ah, il sindaco non so qualunque. C'è anche un medico sindaco. Quindi sapere questi problemi quali sono importanti. Poi un'altra cosa importante da dire, no? Se ci fosse una soluzione, pensate che sia un problema da risolvere subito o magari vorreste pensarci o prendere tempo. Cioè, e chi è che... che vi dice no? A queste domande non si risponde no, si risponde sempre sì, no? Questo è fondamentale per... per portarli verso un ragionamento che possa poi prendere delle decisioni consapevoli. Quante persone pensate siano interessate a risolvere questi problemi? Ve lo chiedo a voi. Quante? A risolvere problemi di inquinamento? Tante, no? Allora, questo è lo schemino che è interessante per un approccio. Poi ognuno ha il suo modo di comunicare, naturalmente quello è uno spunto di... ognuno lo dice come vuole, però il concetto dovrebbe essere questo. Quando prima parlavamo di ossidolo, vedete, già questa è un'altra cosa fondamentale. La riduzione della produzione parziale di ossigeno provoca, come sappiamo, quattro forme di ipossia, la lipossica, anemica, stagnante e istotossica, che comunque portano alla riduzione di produzione di ATP al vero mitocondriale. Questo mi porta a un danno ai tessuti. I danni ai tessuti inizia la stanchezza cronica, la difficoltà di concentrazione e poi l'infiammazione cronica, poi i dolori, poi non si digerisce, poi non tiarsi dal letto, poi la fibromialgia, che comunque è una forma di fase costituzione reumatica congenita, dove è un'infiammazione silenzio e poi l'epigenetica fa scattare, come si dice, come dico sempre, la genetica, la rivotella, l'epigenetica del riletto. Quindi, poi, c'è l'ischemia di perfusione, e questa è un'altra cosa fondamentale. Pensate, senza andare nelle malattie, ma pensate a uno sportivo. quanto sia importante la riperfusione e la capacità di allenare il recupero, perché comunque aumenterà il suo tasso di radicali liberi, e quindi pensate quanto sia importante la sua capacità antiossidante per contrastare l'eccesso di radicali liberi. Faccio sempre un esempio, noi siamo stati fornitori della Nazionale Italiana di Ultramaratona per tanti anni abbiamo fatto, abbiamo vinto i campionati europei, sono stati presi queste atleti che veramente ne avevano di tutti i colori, con Luca Speciani, la medicina di segnale, eccetera, eccetera, e Daniele, per la mia, insomma abbiamo fatto questo, questo protocollo, e cosa veniva fuori? Che questi maratonetti, pensate che poi certi loro fanno opera e si allenano due volte al giorno, 35 km, 40 km al giorno, cioè, all'allenamenti, si alzano la mattina e poi ritorno a lavorare, la sera ritorno a farsi 20 km, c'è gente che corre 24 ore senza fermarsi, come sapete, poi fanno anche, se qualcuno è medicina dello sport, lo sa bene cosa vuol dire, anzi, ciao Paolo, ciao Paolo, benvenuti, fondamentale per loro cos'è? Che loro hanno allenato la loro capacità di recupero, infatti hanno una elevata capacità antiossidante, pensate, l'allenamento quanto quindi è fondamentale, ma se questo è fondamentale negli atleti, pensate, nelle persone che hanno un problema o sono infiammate, eccetera, ed ecco l'infiammazione, quindi un killer, no? Guardate, è legato a tutti i problemi e le pandemie del nostro secolo. Quindi, noi, certamente, se facciamo una buona comunicazione, possiamo consigliare alle persone di cambiare stile di vita. Bene, possiamo fargli cambiare città, lavoro e dove dormono? No, spesso è molto dura questo. No, come fai? Trovi un ambiente dove dorme, magari, faccio solo un piccolo esempio, pensate ai problemi legati al raduno, di cui nessuno parla, perché pensate a vivere, dormire in zone, pensate quanto questo possa essere nociva per la salute, perché l'organizzazione non è la sanità, il raduno l'ha messo uno dei primi posti per danno polmonare e tumori polmonari, come sapete, non solo, e poi pensiamo sempre ai tumori, pensate anche alla qualità della vita, viene condizionata, pensate a chi lavora sempre nei sottoscala, che hanno i laboratori, gli ospedali che hanno queste, tu fai la risonanza magnetica, dove? Sopra, la zucca, oltre alla risonanza magnetica, ore, tac, anche il raduno, nessuno prende, no, per i Navala, a prendere questi misuratori di raduno, li mette in casa per qualche giorno, poi li porta a analizzare, e per esempio S-Drive è interessante, perché quando ti esce fuori in radiazione, incominci a ragionare, a far ragionare il paziente, a chiedere se ha fatto, ultimamente ha fatto TAC, risonanze magnetiche, se vive, dove dorme, se dorme a primo piano, su, se poi ci sono, come sapete, i raggi gamma, sapete che il raduno rilascia Polonio, e quindi poi alla fine, no, radio, sapete che poi viene, si respira, non è il raduno, ma è il decadimento del raduno, no? Quindi, tutte cose fondamentali di cui, penso che si stia perdendo un po', si stiano un po' perdendo di vista, no, queste cose. Infatti, gli ultimi dati di rischio dicono che 4 su 10 vogliono un infarto ictus, ma è una pandemia molto maggiore, neurodegenerativa, teroscaro, di metaboliche, tumore, come insegna sempre il professor Burgio, cosa dice Burgio? Dice, attenzione, i tumori stanno aumentando soprattutto nei bambini, da 0 a 2 anni, tumori cerebrali, leucemia in aumento, cardiovascolare, malformazioni, 500.000 bambini nati, eh, eh, sì, eh, morti prematuramente, non nati, neanche nati, in Europa. Primo posto, Italia. Basta pensare a quello che hanno fatto a Priolo, no? Eh, con la discarica per anni, per 50 anni, di tutto quel mercurio, eh, poi le donne mangiavano il pesce al mercurio e sono nati più di mille bambini malformati. Eh, poi tutto quello che comunque non si sa. Quindi, e poi c'è la rimentilazione, c'è l'aspettativa di vita, certo, c'è tutto il discorso legato al fatto che si nasce, prima o poi si dovrà morire, adesso lo sappiamo tutti, però di mezzo c'è un mondo. Guarda caso, anche qui, vedremo alcuni studi, ve lo accenno solo, ma sono legati a una disfunzione mitocondriale, quindi, l'uomo ha l'età dei suoi mitocondri. Basta pensare allo studio pubblicato da Quassarizza di Modena nel 2014, parlava proprio dell'età, l'uomo ha l'età dei suoi mitocondri. Quindi, la rimentilazione del DNA è importante, ma io come faccio a sapere che invece della carenza di folato che è così fondamentale per, sappiamo, prima della graviranza e fino al terzo mese dice Burgio, poi dopo in subito a stare attenti come ci insegna la nostra amica ginecologa. Vero o no? Quindi, però, a volte questi hanno carenza di vitamina B12 e non lo so, come faccio a saperlo? Se queste vitamine sono veramente mancanti, perché, come dicevo prima, sangue è una cosa ma poi non mi arriva a livello elettrocellulare. E sappiamo quando sia importante controllo l'omulterumocisteina con B6, folati, B12, però, a volte uno ha B6, B12 a posto e gli manca folati o viceversa poi gli manca la molecola preoplica per eccellenza la più importante in assoluto che è l'essere osimetionina. Come sapete ci sono carenze di mentionina importantissime, vi ricordo, l'essere osimetionina fondamentale per la rimettilazione del DNA epatoprotettore, disintessicatore epatico, rafforzamento e equilibrio delle sinapsi e del miglioramento della membrana cellulare, infatti viene utilizzato da moltissimi protocolli che si occupano di lipidomica. Sapete quanto sia un potentissimo antidepressivo, tonico dell'umore, un eccellente quindi detossificante anche chiarante, è un prodotto il vasame che ci permette proprio di migliorare la permeabilità della membrana cellulare. Anche un prodotto interessante associato a questo potrebbe essere così il metisucurin il metano, conti di suffirici SS molto importanti nel sistema immunitario. però in questo caso questa è una molecola straordinaria, veramente potente, potente. Allora, cosa possiamo fare? Eh, guardate un po', raddoppio la dose perché queste cose, leggendo tutti i libri, tutte le cose, ne ho messe solo qualcuna, però guardate, io ho messo a primo posto la carenza di ossigeno perché ci arriviamo troppo tardi all'importanza dell'ossigeno, no? Quando siamo, quando ci devono o intubare o mettere la mascherina perché non si respira più. Allora, allenare anche la respirazione per apportare l'ossigeno è fondamentale, è vero Sergio? Quindi, quanto è importante quindi lavorare sulla disfunzione mitocondriale, il DNA nucleare fondamentale pensate che così questo è interessante se è vero che il DNA nucleare è tutto in linea materna nucleare no? Dal padre ma soprattutto come informazione che serve per proteggere. Danno microcircolatorio, danno al grigocalice anche di grigocalice se ne parla pochissimo sono le sentinelle fondamentali della membrana cellulare e anche non se ne parla membrana scusate l'errore danno endoteliale disfunzione endoteliale si pensa come sapete avete visto cosa crea questo covid no? questa tempesta citotchinica che soprattutto agisce dove a livello mitocondriale è endoteliale quindi proteggere l'endotelio e il mitocondrio è fondamentale e quindi evitare di andare in carenze di ossigeno infatti l'ozono funziona molto bene abbiamo visto gli studi che sono usciti pubblicati con l'ossigeno e l'ozono terapia interessanti carenze carenze vitamine carenze aminoacidi carenze minerali carenze di assi di grassi essenziali l'epidomica la capacità antiossidante la superossono di smutasi l'imprutazione il Q10 la vitamina D l'eccesso di radicali liberi la disfunzione ormonale la tiroidea il testosterone l'endere le ossidate l'emoglobina agricata l'insulio resistenza il Q10 quanti esami dovremmo far fare alle persone veramente per capire la situazione Filippo sei d'accordo? è interessante questo aspetto ma quanti esami dovremmo far fare alle persone avere però un quadro subito insieme all'anamnesi che ti permette poi di arrivare e fare gli enlami specifici ti permette di far prima quindi cosa è possibile fare oggi per capire cosa stia interferendo sulla salute del paziente quali le cause o le con cause quali o quali strumenti abbiamo a disposizione per valutare questi fattori quanti sistemi conoscete che sono in grado di dare un'informazione così completa e utile in soli 12 minuti quanti esami io lo chiedo sempre conoscete che sono in grado di poterci dare una risposta in solo 12 minuti se prevenire è meglio che curare allora l'epigenetica che è la riprogrammazione fisiologica che avviene a livello cellulare senza siete d'accordo su questo allora noi attraverso una serie di meccanismi biochimici che andiamo a regolare grazie alla conoscenza dell'impatto ambientale perché vedete spesso è anche più utile togliere quello che sta danneggiando e come faccio io a sapere spesso arrivano col mal di testa e poi dopo non vi dicono che dormono col cellulare da una vita sotto cuscino o sempre o la televisione in camera o la sveglia o la la baju che a volte dà fastidio è chiaro che non si nasce tutti uguali non siamo tutti uguali ecco perché l'epigenetica è il 98% ma alcuni di queste cose fa diventare lejosensibili o con sensibili sensibilità chimica multipla quindi vuol dire che non è che poi a chi sta bene questo rolin è acqua fresca comunque qualcosa gli darà fastidio pensate a un atleta che ha bisogno di migliorare il centesimo di secondo in certi sport quanto queste cose possano fare la differenza che sono quelli sai tutte le sere sono mal di testa ormai mi sono abituato ma non c'è gente così quindi rimetilare grazie a fattori importanti e ce lo diceva già nel 2001 no? al time no? attenzione il DNA non è il tuo destino e poi attenzione a quello che fai al tuo bambino quando è nella pancia della mamma perché quello condiziona la sua vita per sempre che purtroppo oggi per esigenza anche di arrivare a fine mese sapete quante persone devono lavorare fino al nonno mese di abitanza no? anche gli imprenditori stessi a volte non hanno mica siamo tutti imprenditori come fai? come fai? neanche oggi non vado a lavorare è così semplice e questo condiziona pesantemente la salute non solo della donna ma delle future generazioni allora noi dovremmo lavorare insieme e ci sarà Piermarviava proprio qui con noi domenica per parlare anche di riprogrammazione cellulare epigenetica perché è fondamentale grazie alla riparazione del danno mitocondriale e l'epigenetica di fare in maniera di avere sempre più cellule sane che si moltiplicano in maniera sana e di si differenziano in maniera sana per mettere al mondo bambini sani è lì che dobbiamo lavorare ed ecco quanto sia quanto è fondamentale capire l'importanza di un dispositivo come S-Drive in questo contesto e non lo diciamo noi vedete guardate l'AIDS dice attenzione nella compara se il tumore conta l'epigenetica aspetta un momento non è che noi vogliamo parlare di tumori vogliamo parlare di infiammazione di stanchezza cronica di mal di testa di prevenzione per il primare di stare di benessere no? non ci interessa andare lì lì c'è già il più male ma se andiamo avanti ci dice che queste cose sono trasmissibili alla terza generazione allora se questo è vero quel discorso che facevamo prima qui diventa ancora più urgente urgente perché è qua che si gioca tutto e è qua terza generazione vi ricordo che gli ultimi studi dicono anche quinta settima generazione di trasmissione del tavolo quindi uno dice ah sì cosa vuoi che sia bere un po' di vino in gravidanza no? lo beva un bicchiero non fa male come diceva Burcio spesso sei in gravidanza non bere non puoi bere non puoi fumare ma si non so se hai qualche collega che dice massima sigaretta più cosa vuoi che sia e poi ce ne troviamo così questa è epigenetica già programmata dentro la pancia della mamma e questa è genetica questa è epigenetica e se si poi mangia male certo è stata abituata a mangiare male basta pensare cosa abbiamo importato dall'America no? 40% di obesità quindi il dono della vita è fondamentale dobbiamo lavorare insieme unire le forze perché possiamo veramente arrivare qua e quindi prevenire ci sarà il professor Balducci che proprio ci ci parlerà di quanto i distruttori endocrini siano veramente una ricoprino un luogo fondamentale per proteggere la nostra salute anche a livello fetale metalli pesanti particolari nel disperso non porto in causa Raimondo per i metalli pesanti non di per tutto il discorso del danno da mercurio e non solo alluminio piombo cammio galolino eccetera eccetera ma lo facciamo già qui il danno quindi se c'è poi una predisposizione pensate cosa accade e qui abbiamo la tutta andata riposare che non sa appena la tutressa Panisi Cristina Panisi che si occupa come sapete di bambini autistici da sempre dove c'è tutto un ruolo di di con cause e poi naturalmente l'organismo con una predisposizione questo guardate lo scaricato l'altro giorno questo è il Cordis quindi Europa comunità europea finanziato lo vedete di genere questo ha fatto lo vedete in uno studio nel 2014 e nel 2016 l'esposizione di materiale particolato effetti negativi sulla salute gli scienziati europei non si piacciono in modo in cui i materiali inducono le interazioni epigenetiche nelle cellule interessate no ma questi risultati sono l'importanza dell'inquilamento atmosferico e il sviluppo del campo ma stiamo parlando solo di inquilamento autosferico pensate tutto il resto 467 mila morti per inquilamento l'anno metalli pesanti andiamo a pescare veramente con le talamente compriamo pubblicità e viviamo in un mondo malato e poi le statistiche che ce l'hanno ormai non ne posso pensare che basta statistiche però io vi porto quelle ufficiali non del covid quelle ufficiali della consiglia nazionale geologica nr nazionale sull'amianto vi ricordo 96 siti da bonificare diamanto 6.000 morti l'anno solo per danno da amianto vi ricordo 200 siti conosciuti da bonificare di terre dei fuochi 200 di cui si sente parlare solo Napoli a Cerra no Brescia Bergamo sono tutte terre dei fuochi la Spezia c'è una terra di fuochi la collina dei Veleni che abitende eccetera eccetera si si poi dopo lo bonifichiamo 30 anni questa è la statistica che fatta da loro no? fatta cioè ce l'hanno data loro si dice la società si dice l'istituto sicurezza di sanità che si parte dai 10 20 morti per il futuro di 7 fino ad arrivare guardate qui tutti i morti influenza alcolismo suicidi le ocemie guardate qua polmoni 10.000 morti l'anno 11.000 morti in caso di monosalzheimer da 14 a 50.000 errori medici morti in un'unità dell'anno di 84.000 170.000 per tumore 230.000 in un'altra sistema però il problema della nostra società è immorpillo il problema è quello cosa stiamo facendo per prevenire queste cose purtroppo non c'è molte soluzioni si può quello che fa bisogna agire a livello molto alto però comunque questi sono dati quindi perché non si possono discutere perché guardate questo documento Senato della Repubblica del 2018 ogni anno ne esce uno è stato fatto da Senato della Repubblica e cosa dice effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori generale una formazione di fetto neonatale e epigenoma ed è un documento ufficiale andate a scaricarlo si può scaricare e in questo documento non l'ho portato la seconda parte si dice chiaro comunque si sottolinea che l'attura scientifica evidenzia che l'inquinamento ambientale e l'esposoma quindi condiziona l'epigenoma con conseguenti malattie croniche degenerative nel corso dell'infanzia e nelle malattie trasmissibili per intere generazioni lo dice questo documento e questa è la nostra situazione dove poi c'è la ciliegina sulla torta e qui poi ne parleremo anche di questo dove naturalmente i cellulari sono diventati un regalo delle comunioni anzi appena nasci già c'hai l'iPad 50x50 che se non si vedi te lo metti sul passettino si sa mai che e poi vado nei supermercati e c'è con lento un wifi perché è giusto che devi avere il filmino così stai bravo sì o no negli ristoranti così dai stai bravo io ci ho dato chiacchierati i televisori sono più grandi e questo è un problema perché a parte che fa male anche a noi tantissimo ma pensate a un bambino guarda qui siamo a 5 anni pensate su te 5 anni cosa gli ha e pensate nella pancia della mamma già che viaggiano con i tablet direttamente qui ho il cellulare appoggiato qua perché si fanno anche le ecografie ormai con il cellulare ma non te lo dice nessuno non fa male ci stai avvicinando qualche no qualche qualche frequenza che non è compatibile con la salute del bambino che ha nella pancia perché fa male ma neanche nel bambino che poi metterà al mondo fa male il wifi viviamo comunque così e dormiamo così e quando ci lamentiamo per il 5G vi ricordo che ci sono wifi che viaggiano a 2.5 o 5G quindi già ci stiamo facendo male con i wifi che viaggiano a quelle frequenze ma non c'è nessuno allora noi incominciamo a fare i danni a livello mitocondriale e del dia nucleare questo perché siamo 100.000 miliardi di cellule allora incominciamo a guardare le persone cercando di guardarle come cellule anche per la cellula perché alla fine devo occuparmi delle sue cellule di quello che arriva dentro i suoi mitocondri del consumo che hanno le sue cellule di ossigeno di idrogeno devo far funzionare il motore fondamentale della vita perché le malattie iniziano a livello cellulare tutte le malattie iniziano lì nella matrice che sarà cellulare mesenchima tessuto connettivo ecco lo sentiremo domani con la meravigliosa lezione del dottor Pace sulla membrana cellulare i cricocallici sono questi qua questi tulipani fondamentale e questo è fondamentale per far passare le sostanze giuste invece che quelle sbagliate ma se tutto il mesenchima è intossicato che si intossica progressivamente ormai e non ossigenato quelle cose non funzionano bene e quindi saltano i meccanismi di protezione ecco che ve lo dicevo vedete lo salizza l'onestà di Modena la regge miglia l'uomo all'età del suo mitocondri il DNA mitocondriale decide la longevità è uno studio molto carino e poi e poi tutte le malattie dipendono da risoluzione del mitocondriale se ma come è possibile allora ma chi te lo dice questa cosa qua noi siamo abituati a caricare le batterie dei cellulari mica mica quelle dei mitocondri ecco come si fa andiamo in panico quando il cellulare non è con me e guardate tutto dipende linea materna la fondazione di medicina del mitocondriale ci dice proprio che tutto dipende da qua e allora ecco che ritorno è importante il giusto apporto di ossigeno l'equilibrio dell'ossigeno perché perché l'iperossia è sempre un problema la mancanza di ossigeno è un problema allora ecco il tau redox dell'ossigeno vedete difesa e segnale questo è fondamentale ma come è possibile che io sono 21 anni che cerco di portare questo messaggio si si la bema lei dove da dove esce si dai parliamo di altro come parliamo di altro sto dicendo che la permeabilità dell'escrizione all'escrizione all'omeostrasi il metabolismo a crescere e a rinconciare tutto il movimento dipendono dal giusto apporto di ossigeno a livello cellulare e mitocondriale poi verrà il resto ma se non metti in moto il motore se la carburazione non va e tu continui a fare benzina ti puoi muovere con la macchina prima metti a posto il motore il motore lo si può mettere a posto solamente a livello mitocondriale DNA mitocondriale e ce lo diceva a Vargo già con premio 9131 ce lo dice Kittor in tutti i testi in fisiologia medica è uscito anche dei aggiornamenti meravigliosi di questo libro e poi l'effetto Vargo quindi lo sappiamo lo switch mitobi metabolico che ti porta alla metastasi quando prima l'infiammazione e poi metastasi quindi ecco l'importanza di modulare l'ossigno sapete che da sempre quindi permettetemi di parlare di questo meraviglioso nutraceutico che è in grado proprio di regolare questa questa ipossia o ipossia riportandolo alla normossia vi ricordo che anche in caso di normossia fate la pressione parziale di ossigeno avete l'ossigenazione 98 non è detto che quell'ossigeno sia consumato in maniera ottimale è lì che bisogna stare attenti perché lì ci può essere un difetto di fabbrica che passa l'interno dalla nascita e quindi possiamo intervenire questo è SELFUR da sempre SELFUR contrasta l'impossia l'acidosi il stress dilativo la disfunzione mitocondriale come fa permettetevi di farvi vedere questa è una modalità esplicativa semplice molto più complesso perché lui agisce per fissione scissione a livello fisico della molecola dell'acqua come fa prende la molecola dell'acqua carica negativamente l'ossigeno l'ossigeno si nega i radicali liberi quindi fa un'azione antiossidante e riforma l'ossigeno l'ossigeno se non serve si nega l'idrogeno e riforma acqua quindi o fa un'azione antiossidante e ossigena allo stesso tempo o aumenta l'acqua quindi la diuresi la disintossicazione il drenaggio la depurazione con una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano pensate che l'ossigeno va avanti fino alle 6 12 ore fino al 90% è un colloide quindi abbassa la tensione superficiale modifica le proprietà elettrolitiche e quindi può essere un carrier per qualsiasi protocollo che fate al di là di serp degli altri prodotti qualsiasi protocollo che fate fitoterapia omotossicologia omoepatia integratori di qualsiasi altra casa ma self-food vi permette di fare la carica di lavorare sul terreno e quindi far agire tutto molto più amplificato e naturalmente vi ricordo come il giornale di riferimento dei giornali ti dice che le formulazioni spray o subliguali sono di gran lunga superiore a qualsiasi capsula o compressa o pillola perché perché se io prendo una compressa assimilo solo il 20% se tutto va bene perché l'80% viene passato dal fegato quindi se io prendo quindi grossi dosi di vitamine spesso certe vitamine diventano pro-ossidanti quindi sovraccaricano gli organi mutori e fanno anche un po' di problemi e sono pro-ossidanti facciamo esempio la vitamina C va bene se c'è un problema di salute anche a grossissimi dosaggi chiusa anche 15-20 grammi in vena ma se io la do per la prevenzione e ne prendo un grammo pensate che già 500 mg aumentano l'acqua ossigenata per l'ossido idrosa quindi diventa pro-ossidanti la vitamina C si ricicla comunque però pensate a vitamine A la vitamina E che devono essere sempre riciclate e se io ho delle ruote così con dei ruottini così con il ruottino così non riesce a muovere questa ruota così quindi non riciclo più ci vuole sempre equilibrio gli studi ma ci sono degli studi questo è un studio sulle cellule endoteliali questo prima e questo dopo questo è il cordone per il calo umano questa è l'ipossia prima l'aggiunta di self-food accende il DNA nucleare mitocondrale riattiva il mitocondrio produce EDP e modula la subrossima dismutase ecco perché ha questa grande capacità antiossidante viene utilizzato vedete questo è uno studio su OmcoTarget 2015 pubblicato con la possibilità di utilizzare self-food naturalmente non come terapia e curare i tumori ma per migliorare tutto l'approccio farmaceutico eh questo è uno studio fatto prima su 39 pazienti dove si è visto l'importanza di disintossicare con la creazione per i tali pesanti i pazienti e anche di che lo so faccio e quindi aumento gli studi hanno dimostrato aumento della capacità antiossidante di riduzione di radicari libri aumento della B12 aumento del mutazione tutti i parametri del stress ossidativo miglioramento notevole della probabilità della vita dei pazienti questo è uno studio invece su 230 pazienti 230 pazienti allora mi dicono a volte mi dicono ma studi ne avete cosa devo fare mi sembra interessante questo è un altro studio portante questo è uno studio sulla fibromialgia questo è uno studio sulle cellule riocemi che è pubblicato dall'istudio tumori regionale di Roma che mandano apoptosi le cellule tumorali questo è uno studio che ha dimostrato la modulazione del P53 e non solo tutte le cellule di segnale la protezione proprio quindi tutti questi sono tutti le indicazioni in cui si può usare dalla supporto prevenzione depurazione all'associazione vi ricordo che in questi casi per esempio in fibromialgia si arriva alle 15 voce tre volte al giorno nelle patologie neurodegenerative si arriva alle 20 per tre se volete aiutare qualcuno con metastasi potete dare anche 20 per sei non cura i tumori non cura le malattie serve per aumentare l'ossigerazione mitocondriale potete utilizzarlo nella neurodegenerazione ho detto 20 per 3 negli sportivi 16 20 per 3 dipende vi faccio un esempio il maratoneta nell'ultima 12 medaglia d'oro olimpica di Londra allenato da un italiano che prima allenava a parte 20 chilometri di marcia 300 gocce in gara 300 gocce in gara tutti i studi sono pubblicati e ritrovate su qua quindi insomma è anche interessante avere un nutraceutico che finalmente ha anche riservi scientifici no questo prodotto contiene questo non vuol dire niente chiedete sempre qual è la capacità antecedente di questo prodotto che mi stai consigliando qual è la biodisponibilità qual è l'assimilazione e qual è la via di somministrazione fate sempre queste quattro domande e poi se quello che dice ha la ricerca scettiva quello dice come fai a dire che è un colloide vi faccio vedere solo qui questa è una cosa fondamentale se voi mettete 8 voce in un bicchiere d'acqua la conduttanza passa da 3,65 a meno 22,44 e il potenziale è z e la conduttanza passa da 9 nicol a 192.323 che un farmacista sa cosa vuol dire queste cose che si occupa di biochimica ma cosa vuol dire che la dispersione ionica di quell'acqua cambia quindi diventa una ionizzazione negativa a livello cellulare che si sviluppa dentro il nostro corpo non fuori non do ossigeno qui ma lo modula il mio corpo a seconda di quello che ha bisogno in forma con noi d'arte quindi 0,64 secondi è nel sangue perché viene asseminato il mello mucosa e sublimuato questo è un aspetto interessante quindi sappiamo che questo è fondamentale però dice adesso come faccio io a conoscere tutte queste cose che possono impattare sul benessere e la qualità della vita del mio paziente o delle persone o su di me come faccio a conoscere come sapete da dieci anni fa è nata questa corsa importante verso questo dispositivo questa tecnologia che ha avuto avuto modo di conoscere il Jan il presidente lui è un inglese che è andato a vivere in Malesia e ha ricevuto in dono questa tecnologia russa e tedesca quando era giovane e lui ha detto questa tecnologia gli ha permesso veramente di diventare una persona di successo non veramente di tanto successo c'ha tante aziende però aveva partito con l'energia e e si ha voluto ridare al mondo quello che ha ricevuto per la prima cosa che ha fatto ha adottato più di 30 bambini nella sua casa di tutte tutto il mondo però conoscitore lui ha studiato medicina pensate a me non ha preso non è invitato medico ma ha studiato medicina in Inghilterra non sapeva come scegliere un cibo migliore per i suoi bambini non sapeva come fare sapeva di questa tecnologia con un suo amico in Germania ha detto cosa possiamo fare lui conosceva bene la tecnologia Tesla e lui la tecnologia per leggerla e la bionisonanza insomma si sono messi insieme e piano 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 hanno creato il David in Germania ha creato e ha disegnato questa bobina particolare e poi con la tecnologia in grado di leggere questa informazione ha iniziato a capire quale fosse il biomarker fondamentale e sono arrivati al burro del capello che oggi sappiamo essere un biomarker molto prezioso e hanno creato questa tecnologia straordinaria domani poi verrà approfondita questa parte oggi ho voluto fare un'introduzione dove ci permette di conoscere in maniera abbastanza veloce con una priorità molto alta o direvanza alta oppure come devo agire a seconda delle indicazioni che lui mi dà a seconda delle carenze quindi pensate ai cibi non in tolleranze o allergie perché questo è complesso sangue c'è tutto un discorso che è meglio di me ma incompatibilità con certi cibi che molto spesso io faccio sempre un esempio ci sono persone magari faccio esempio del tonno no? quante persone mangiano un tonno si sentono male faccio un esempio il giorno dopo che vedono questo tonno non lo mangiano più chi gliel'ha detto chi gliel'ha detto è incompatibilità con quel cibo e con tante altre cose succede per le persone che mi indigesta è la stessa cosa e lui rileva questo segnale questo segnale è in grado di rilevare le carenze a livello minerale aminoacidi sistemi antissidanti e ci permette poi di ricreare dei report guardate ho portato questo per quanto sia importante per la mia visione l'impatto ambientale sapere cosa ti sta veramente danneggiando che stai utilizzando troppo il cellulare il wifi che c'è il traliccio come qui c'è il traliccio attenzione magari ti condita fastidio oppure sei in ufficio dove c'è il wifi quindi dici aspetta un attimo magari presentami Massimo Cugini che mi permette di aiutarmi a contrastare questi danni e poi c'hai questo che è questo record che è meraviglioso metterli pesanti metterli tossici e quindi vai a indagare cosa mangia se mangia pesce spada se mangia tonno se mangia salmone se cucina con le pette dell'alluminio se prende il caffè con la moca se ha magra del dentare se 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 quindi si arriva a incominciare a fare un'anusi diversa più completa siete d'accordo e poi è molto bello il fatto delle scusa cara è molto bello il fatto delle sostanze chimiche quindi andare a indagare e capire se questa persona usa tanti detersivi che come che trucchi usa e quante volte si fa la tinta alla settimana e eccetera eccetera e poi le radiazioni e lì entriamo nel mondo della dove vivi dove dormi dove lavori hai fatto l'attacca hai fatto le risonanze magnetiche hai fatto panoramiche dentali c'è radon c'è radiazioni e quindi ecco la possibilità di creare il report epigenetico avete mai visto questo video del come lo faccio vedere se lo faccio vedere dopo quindi avere chiaro tutte quelle che sono le interferenze è probabilità ma anche il sistema neuroendocrino emozionale perché lui ci dice c'è un problema di emozioni c'è un problema un problema adrenergico di stress c'è un problema di infiammazione stress sedativo c'è un problema di cardiologia c'è un sistema gastrointestinale il sistema immunitario comincia a avere qualche problema e allora incominciamo a ragionare questo è un sistema che non fa diagnosi di malattie ma che ti permette di fare un ragionamento e rendere il paziente il cliente la persona consapevole di ragionare e poi c'è tutto il sistema della costituzione di una lezione meravigliosa che ci regalerà domani inizio le lezioni Bartolomeo che ci permetterà veramente di entrare dentro guardate meraviglioso con della casistica clinica prima dopo sarà bellissimo domani e quindi l'amore per la vita perché è fondamentale anche il fatto che spesso ci raccontiamo cosa ci raccontiamo cosa ci diciamo perché senza questo come diceva il grande sommo moeta un poeta l'amore che muove il mondo le altre stelle quindi è tutto e allora ricordiamoci che la vita senza amore non ha senso non ha senso e se non funziona cosa possiamo fare raddoppiamo la dose allora io vi ringrazio veramente di cuore questa è la prima parte l'introduzione adesso sprendiamo beviamo un po' d'acqua ci prendiamo un caffè ci facciamo la passeggiata che ore sono? spettacolo allora è 4 e 20 ci rivediamo qua grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti